Tra Bucinesse e Castenovesse la spunta la formazione di mister Benciveni con un secco 2 a 0 doppietta di Corsi Riccardo e proietta la formazione a Varanto nella zona pre-op. Per la Bucinesse la sedicesima sconfitta in questa stagione è sempre più, si vede, la retrocessione. Ma andiamo alla cronaca. Primo a fondo Castenovesse, sinistro di Dapi, alto. Superato il ventesimo la Castenovesse passa in vantaggio con carcere a fermo di Corsi Riccardo. Con il secondo tempo andiamo intorno al diciottesimo a fondo Fuscinesse, colpo di testa di Pestana, debole per impensalire il portiere Pofoncini. Alla mezz'ora Castenovesse la doppia, fa tutto da solo Corsi Riccardo, doppietta per lui. Sul finire primo tempo i legni salvano la porta della Castenovesse. Grazie a tutti.